Quanto è bella questa Serie B, non finirò mai di dirlo, lo dicevo in campionato, lo dico in queste fasi finali, succede di tutto, sempre, alla fine, durante, bellissime, bellissime, le partite di Serie B davvero stanno regalando emozioni su emozioni e io sono qua a raccontarvele. Come tutti i playoff e come tutte le giornate di Serie B quest'anno, ovviamente, Quare Cup, grazie a tutti i nuovi iscritti del Cagliari, del Bari e di tutte le altre squadre, ragazzi, veramente, una partita veramente, veramente bella, una partita che il Cagliari vede sfumare alla fine una vittoria, però onestamente, ragazzi, credo che chiunque dica, anche i cagliaritani, ne conosco tanti, sportivi, è il risultato più giusto, è il risultato più giusto perché comunque Radunovic oggi si è superato in una maniera incredibile, Radunovic oggi è da Oscar, da Monumento, se finivo 1-0, ragazzi, bisognava fargli una statua fuori dalla Domus Unipol Arena, come cavolo si chiama, io sono ancora legato al Sant'Elia, come anziano mi ricordo ancora il Sant'Elia. Ragazzi, una bellissima partita, due rigori per il Bari, però sì, ragazzi, onestamente, secondo me, c'erano tutte e due e secondo ancora di più. Ma andiamo con ordine, non prima di salutarvi a tutti, ciao e benvenuti a tutti, mi raccomando, come sempre, scrivetevi a te, mettete mi piace, quindi direte commentate, rispondo a tutti, ovviamente, se lavoro no, ma quando ho un attimo vi rispondo a tutti e lasciate tanti like, che è tutto gratis, non vi costa nulla, sia iscrivervi che lasciare like, che appunto commentare. Vi racconto tutto, andiamo appunto con questa finale di andata di playoff in Serie B tra Cagliari e Bari, che il Cagliari scende inizialmente con la formazione ufficiale, qui c'è scritto, ma la formazione del Cagliari iniziale è Radunovic, Zappa, Altare, Goldaniga, Assi, Nandes, Macumbu, Deiola, Mancosu, Luvumbo e Lapadula. Allenatore, il grande Ragneri, il grande Ragneri lo dico anche perché sul finale, quando scoppiano tutte quelle polemiche, tutto quel casino, con la panchina del Bari che provoca un po' il pubblico, il pubblico provoca la panchina del Bari, insomma, succede un po' di tutto, a Ragneri rimane un signore, sempre calmo, pacato, che addirittura fa così al quarto uomo, io non sto facendo niente, fanno tutto loro, e quindi ragazzi, onore a questo signore del calcio, quindi un Cagliari che scende con un 4-3-1-2, risponde il Bari, sempre con un 4-3-1-2, con Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Malta, Maiello, Benedetti, Moracchioli, Esposito e che dire, Allenatore, Mignani, un attimo, un altro ottimo mister, ovviamente arrivare a Ragneri gli ci vorrà un po' del tempo, e quindi parte, pronti via, con subito il gol di Lapadula, che è il quarto nei play-off, un Lapadula che riceve da Moncosu, e Mancosu, scusate, boom, 1-0 subito all'ottavo minuto, 21 gol in stagione regolare, 4 nei play-off, quindi ben 25 gol per il bomber del Cagliari, ma poi reagisce, reagisce un po' il Bari che si proietta in avanti, a caccia del pari, e Zuzer che schiaccia di testa, da pochi passi fuori appunto su corner di Esposito, i corner che saranno il punto debole del Cagliari, perché tutti i corner del Bari mettono i brividi alla difesa cagliaritana, ogni volta che c'è un angolo per il Bari corre un pericolo la difesa cagliaritana, e anche Ragneri farà presente questa cosa durante la partita, urlando perché non si può dormire ogni volta che c'è un calcio d'angolo, si sente proprio una frase del genere, e comunque si è, Ragneri si vede che è indispettito da questa dormita generale nei corner del Bari, e quindi non c'è un attimo di tregua, perché la partita veramente nei primi 25 minuti è stata scoppiettante con predominio del Cagliari, ripartenza del Cagliari, Maluvumbo in fuorigioco, osserva la Padula, un pallone trasformato in gol a seconda tentativa della Padula, ma appunto il VAR annulla per fuorigioco, ecco, il fuorigioco c'è, però Lovumbo forse lì poteva fare qualcosa di diverso, perché un po' se la sono dormita e obiettivamente secondo me se lo studiavano meglio e andava sul 2-0 lì, la partita cambia ragazzi, perché se tu dopo 20 minuti quant'è vai sul 2-0, cambia tutto, ma non finisce lì, traversa del Cagliari che spinge fortissimo la sedia alla porta del Bari, davvero i primi 25-30 minuti il Cagliari è stato predominante, poi c'è De Iola che appunto colpisce di testa, colpisce la traversa su calcio d'angolo, ma l'azione appunto era viziata però da una irregolarità. La difesa del Bali è, del Bali, del Bali, del Bali la spiaggia, è palesemente in difficoltà ad ogni attacco dei rosso blu e questo io l'ho scritto perché lo penso davvero, quando nel primo tempo attaccava il Cagliari il Bari era molto in difficoltà, poi nel secondo tempo aggiusta bene Mignani la difesa, comunque bellissimo match veramente in questi 23-24 minuti, di nuovo un'occasione del Cagliari con Mancoso di destra, di destra scusate, che impegna Caprile dopo uno scambio con la Padula che con Luvumbo sta mandando ai Matti, ho scritto, sta mandando Matti la difesa del Bari, la difesa pugliese, Luvumbo, Luvumbo, oh ne la posso fare, tutte le volte mi sbaglio, Luvumbo e lo so che si chiama Luvumbo, Luvumbo, ha mandato ai Matti la difesa del Cagliari i primi 30 minuti, poi viene fuori il Bari, viene fuori il Bari con un'occasione che di testa sfiora la traversa su corner di Esposito anticipando Radunovic e questo è il primo campanello d'allarme, il primo avvisaglio di un duello bellissimo tra che dire Radunovic, l'attaccante poi resta per adolorante ma nulla di che, Bari che resta in questa seconda parte del primo tempo avanti provando appunto il gol del pareggio, Nandes che colpisce di ginocchio e poi di braccio, io qui ragazzi vi direi che questi rigori li danno, però ecco sicuramente tra i due è più netto il secondo, questo si dà, a Sky hanno detto che c'erano tutti e due, io vi dico questo magari se non lo davano non era nulla di scandaloso ma il secondo ragazzi è netto, è netto. Nandes colpisce il posto di ginocchio e poi di braccio e per l'arbitro dopo la visione al VAR appunto dà rigore. Che dire, si fa ipnotizzare da Radunovic e quindi qui ricomincia il duello Radunovic che dire e il rigore tirato però tra l'altro centrale male, non l'ha tirato bene Radunovic, eh sì che dire ma Radunovic ragazzi ha risposto davvero da campione, un bravissimo portiere oggi MVP senza se senza ma perché questo è solo l'inizio di ciò che farà Radunovic durante la partita e quindi all'ultimo minuto del recupero il primo tempo che dira vicino al gol al pari ancora sul calcio d'angolo. Come vi dicevo appunto questi angoli che fanno tremare ogni volta il Cagliari. Secondo tempo appunto però inizia però nell'intervallo c'è la dichiarazione di Radunovic che dice nell'intervista che gli chiedono è cresciuto il Bari, avete visto la reazione del Bari nel secondo tempo, lui ha detto no no non è cresciuto il Bari ma siamo noi che abbiamo mollato, siamo noi che abbiamo mollato e non va bene ha detto. Io condivido con lui perché secondo me ok sì è cresciuto il Bari però è anche vero che il Cagliari non poteva reggere i ritmi iniziali per tutta la partita perché è stato veramente all'inizio un Cagliari asfissiante. Tra l'altro come vi dicevo appunto Cagliari che ha creato tre palle gol oltre al rigore rispondendo ad un ottimo Cagliari dei primi 25 minuti. Secondo tempo che inizia con nessuna sostituzione, si parte con gli stessi 22 in campo e ancora Radunovic ragazzi verso che dira con Radunovic ancora decisivo, paratona veramente, partitona dell'estremo difensore del Cagliari. Cagliari che torna un po' ad avere il possesso palla ma crea senza successo un paio di occasioni con Deiola. Radunovic monumentale ancora su Benedetti che colpisce di tacco e quindi il Bari inizia a dire oggi la porta è stregata e non ce la possono fare. Cagliari che ripeto nei corner subisce sempre e appunto Ragneri si incavola anche il Bari prende campo come nel primo tempo dopo un avvio buono in cui il Cagliari tiene palla sono poi gli ospiti ad avere l'iniziativa e i sardi soffrono. La Padula spreca un'occasione per il 2 a 0 e viene sostituito visibilmente stanco il super bomber del Cagliari. Radunovic non contento della prestazione strepitosa fa un doppio intervento su setter appena entrato va tutto solo ma si fa ribattere la conclusione di Radunovic poi sulla respinta colpisce di mano e quindi a gioco fermo ma ancora Radunovic respinge nonostante il gioco appunto era fermo. Quindi doppio miracolo Radunovic ancora 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 Radunovic. ancora Bari tre occasioni nel giro di pochi minuti pochi secondi anzi con appunto il Bari che sfiora il pareggio zappa salva sulla linea sul tiro di Chedira poi ancora Radunovic si oppone a Bellomo e blocca un colpo di testa di Benedetti. Poi c'è il finale con il 95esimo in rigore per il Bari che onestamente ragazzi secondo me è netto. Altare commette un'ingenuità assurda e come in campionato entra Antenucci che all'ultimo secondo la pareggia. Stesso giocatore stesso minuto stesso risultato la pareggia Antenucci tra l'altro finale convulso con polemiche ed è appunto come vi dicevo all'inizio tra la pacchiera del Bari e il pubblico del Bari l'unico signore è Ragneri che rimane sempre l'impassibile. All'ultimo secondo Strelez va molto vicino al 2 a 1 su corner appunto di testa e domenica 20 e 30 ci sarà la finale di ritorno di una partita apertissima. Apertissima perché ragazzi può succedere ancora di tutto secondo me può succedere ancora di tutto. Io la vedo così la vedo così secondo me può succedere ancora di tutto ragazzi mi raccomando fatemi sapere la vostra su questo commento e comunque secondo me sono due squadre che comunque vada quella che non andrà su st'altro anno sarà una se non la favorita ad andare su. Lo dico senza se senza ma ok il Benevento l'anno scorso il semifinale ha perso poi è andato in Serie C qui la faccenda è diversamente diversa diversamente diversa. Ragazzi vi invito ad andare a vedere anche il pagionone della Serie A e la reaction alla mia prediction della Serie A perché vi fate delle risate ci vediamo nei prossimi giorni con i prossimi video mi raccomando tanti like tanti commenti ci vediamo alla prossima e non dite che tifo né Cagliari né Bari perché non tifo né Cagliari né Bari tutte le volte voi intanto qui non ci arrivate quelli che criticano sempre che dicono te tifi troppo per il Bari te tifi proprio per Cagliari te tifi per il Parma te tifi per il sul Tirono me ne avete detto tutti i colori sono Atalantino ragazzi mi piace la Serie B e cerco di essere onesto e sportivo e per me il risultato è giusto questo è quello che vi dico ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao